Ragazzi, passate da Eneba.com per avere a un prezzo stracciato PSN Card e Microsoft Card per le vostre spacchettate sui football e tanto altro sul mondo videoludico. Non facciamoci fregare dagli store delle nostre console con prezzi molto molto più alti e acquistiamo tutti tramite i link che trovate in descrizione. Compra anche tu su Eneba.com Bella ragazzi, benvenuti sul mio canale, io sono Simo Play, oggi siamo di nuovo insieme per parlare di football 2023. Come ogni giovedì video aggiornamento molto rapido, senza webcam, vi faccio vedere giusto le novità di oggi, vi dico che ne penso. E poi più tardi alle 18 ci sarà un altro video, un video dedicato all'eFootball Open perché chiaramente sto continuando a giocare all'eFootball Open. Dobbiamo arrivare alla qualificazione. Allora, non perdiamo altro tempo, prima di andare avanti però come sempre, iscrivetevi, attivate la campanella, lasciate il like, queste cose sono importantissime, lo sapete, aiutano tantissimo l'andamento del canale stesso, quindi mi raccomando fatelo che tra l'altro è anche gratuito. Andiamo subito a vedere le novità del giorno, partiamo dai pack perché chiaramente sono le novità maggiori che ci sono quest'oggi. Allora, pack epico, giocatori, Milan. Qualcuno di voi lo stava aspettando, qualcun altro, tipo me, invece, aspetta il pack con Vieira. Allora, andiamo a vedere chi c'è all'interno. Sicuramente tantissima roba questi giocatori, eh? Rikar soprattutto, ragazzi, arriva a 100 di overall, Van Basten e Gullit anche arrivano a 100 di overall. Oggi lo chiameremo tipo pack 100 di overall, ragazzi, perché tutti quanti dovrebbero arrivare appunto a 100 di overall. Andiamo a vedere un po'. Partiamo dal big time, dal giocatore che dovrebbe essere forse quello un po' più interessante dei tre, almeno per quanto mi riguarda. È un mediano che fosse stato collante è meglio, però è tra le linee e quindi, magari se lo volete utilizzare come mediano, un bel difensivo sulla capoccia. Ci sta bene per quanto mi riguarda. Chiaramente io gli andrei a uppare soprattutto la velocità, il comportamento difensivo, insomma le statistiche difensive, perché io lo userei più come giocatore difensivo. Però, come potete vedere dalle statistiche, può essere utilizzato anche come giocatore leggermente più offensivo. Può fare anche tutte e due le fasi, tra l'altro. E come tutti i giocatori epici, ha il plus di avere praticamente sempre un'ottima condizione perché ha valutazione B. Allora, anche un'ottima altezza, un metro e novanta, tra l'altro. A me piacciono i mediani alti, quindi davvero super consigliato. Scusate. Come sempre, è un poll da 150 giocatori dove ogni tiro costa 100 monete. Quindi, come dico sempre, ragazzi, potete tranquillamente buttarci 80, 100, 120 euro e se siete sfortunati non trovare niente. Per avere la certezza di trovare tutti e tre i giocatori, bisogna spendere all'incirca 140 euro per aprire tutto il poll da 150 giocatori. Sconsigliatissima da fare questa cosa. In generale, sconsigliatissimo, a meno che non avete davvero le possibilità di aprire questo genere di pack. Questo lo sottolineo sempre. Ma se proprio dovete aprirli, passate da Ineba attraverso il link che trovate in descrizione. Mi raccomando, ragazzi, lì ci sono le PSN card super scontate se passate dal link che trovate in descrizione. E con quelle poi almeno risparmiate qualcosa nello spacchettare i football. E comunque una cosa in più. Se proprio dovete spacchettare queste robe sui football, questi pack. Comunque, fatta questa piccola premessa, andiamo a vedere gli altri giocatori di questo poll epico. Van Basten. Interessante. Allora, no. Doppio passo. Purtroppo, ragazzi, non dovrebbe avere il doppio tocco. Non dovrebbe avere il doppio tocco. Anche peccato, perché è un opportunista così, aveva pure il doppio tocco. È opportunista, quindi come Mbappé. È proprio la tipica punta che a me piace. Che a me piace. Chiaramente gli andrei a oppare l'accelerazione. E in generale un po' i comportamenti offensivi. Senza andare a toccare le statistiche difensive. Peccato che non ha il doppio tocco. Ha il doppio passo, ma il doppio tocco no. Peccato. Allora, poi c'è Gullit. Trequartista. Estremamente interessante. Inutile dire che può fare il centrocampista. Può fare il mediano. Può fare la punta. Può fare la seconda punta. Può fare praticamente tutti i ruoli dalla metà campo in su. Tranne sulle fasce. Sempre parlando di zona centrale del campo. Anche lui, un'altezza di 1,90 m. Quindi buono anche di testa. E con ottime statistiche. Andiamo a vedere subito le abilità giocatori. Anche in questo caso non dovrebbe avere il doppio tocco, ragazzi. Quindi niente crocchettone per Gullit. Ma comunque un ottimo trequartista. Andiamo a oppare, come sempre, le statistiche offensive. Controllo palla. Dribbling. Possesso stretto. Passaggio raso terra. Passaggio alto. Velocità meno. Potrei anche... Meglio lasciarla così anche la velocità. Soprattutto se lo dovete utilizzare in fase offensiva. E l'accelerazione. L'accelerazione assolutamente va oppata. Perché serve dargli uno sprint in più nella velocità. Questi sono i tre giocatori di questo racchetto epico. Come già detto. E' super sconsigliato aprire questo pacchetto. Se proprio lo dovete fare. Passate dai neba. Così almeno risparmiate. Altre novità del giorno. Player of the week del 2 febbraio di oggi. Andiamo a vedere chi hanno messo all'interno di questo pool. Ecco. Questi già sono più fattibili. Sono più alla portata di tutti. Allora. Lautaro Martinez. Sicuramente interessante. Ricordo a tutti che questi giocatori non si possono livellare. Non hanno livelli. Quindi ce li teniamo così come ce li danno. Questa è una bella carta. Poi. Acugna. Acugna. Sì. Con il difensivo. Anche se ci stanno tersini molto più veloci. Eric Garcia. Sviluppo questo difensore centrale. Non mi piace ragazzi. Perché 1.82 è un po' troppo basso. Meno che non sei Beckenbauer. Non va bene. Perché Beckenbauer. Anche se non mi ricordo quant'è. Comunque non è 1.90. Ma salta come un grillo. E quindi va bene. Allora. Simeone. Anche lui non mi fa impazzire. Perché sicuramente non avrà crocchette. Niente. Infatti. No. Quindi. Per adesso. L'unico che mi piace. Chi anche se non ha la crocchetta. Perché? Perché l'ho provato in passato in altre sue versioni. È Lautaro Martinez. Rensh. Rensh. Terzino difensivo. Molto veloce. Quindi in teoria. Anche se io consiglio sempre di mettere il difensivo sui terzini. Perché sono anarchici. Ma in teoria. Questo terzino non avrebbe bisogno. Nemmeno. Dell'istruzione difensiva. Quindi questo mi piace. Abbiamo trovato il secondo giocatore. Tra l'altro giocatore di 19 anni. Secondo me. Estremamente interessante. Fernandez. Fernandez. Ha il doppio tocco. Ha il doppio tocco. Ma non mi piace. Perché è troppo lento. È troppo lento. Allora. Kasper Schmeichel. Figlio d'arte. Allora. Sicuramente c'è di meglio in porta. Ragazzi. Sicuramente. Però. I portieri sono più da provare. Che da giudicare dalle statistiche. Quindi lui. Potrebbe essere. Che lo proviamo. Non lo so. Ci devo pensare. Berardi. Lui è interessante. Ragazzi. Anche perché può fare il trequartista. Da quel che mi dice. Il campo. Però. Non ha il doppio tocco. A quanto pare. Ma ha belle statistiche. Quindi lui. Mi piace. Di questo poll. Saul. Saul. Dovrebbe avere il doppio tocco. Infatti. È così. Ragazzi. E c'ha pure riserva di lusso. C'ha eh. Quindi. Se lo mettete nella panchina. Dopo il sessantesimo. Vi spacca la partita. Probabilmente. Ha solo un po'. L'accelerazione lenta. Ecco. Accelerazione lenta. Quindi. Peccato. Non può fare nemmeno il trequartista. Perché potesse fare il trequartista. E con un po' più di accelerazione. Sarebbe stato davvero interessante. Valencia. Super velocissimo. Opportunista. No. Non c'ha il doppio tocco. Non ci credo. Dai. No. No. Perché. Le statistiche almeno non mi portano il doppio tocco. Peccato ragazzi. Questo poteva essere estremamente interessante. Comunque. Va approvato. Perché un giocatore così veloce. Con queste statistiche offensive. Va approvato. Peccato che non ha il doppio tocco. Però. E poi c'è questo Soma. Che può giocare solo sulle fasce. Quindi a me personalmente non interessa. Tra l'altro è bassissimo. E. Non ha. Nulla. Non ha niente. Solo riserva di lusso. Va bene ragazzi. Quindi. Diciamo che. Gli unici interessanti. Secondo me. Di questo poll. Sono Lautaro Martinez. Berardi. Solo un po'. Valencia. Sicuramente. E. Fernandez. Se non fosse che un po' troppo lento. E poi. Michael. Come già ho detto. È da provare ragazzi. Quindi. I giocatori che io vi consiglio. Sono questi qui. Di questo. Poll. Qui. Che sicuramente. È più fattibile. Prendere. Rispetto al poll del Milan. Ricordo che si possono aprire. Solo tre volte. Questo tipo di poll. I player of the week. La quarta. Lo potete avere negli eventi. Che adesso. Andiamo a vedere. Qua. Non ci sono novità. Ragazzi. Pacchetti. Ancora non l'hanno inseriti. Non so perché. Ancora non mettono i pacchetti. Da 900. 1500 monete. Qualcuno di voi mi ha chiesto. Ma quando arriveranno? Boh. Non lo so. Con Konami. Non si sa mai. Nulla. Di quello che succede. Tra l'altro. Non ci sono neanche indiscrezioni. Su questo genere di argomento. Argomento pacchetti. Quindi. Non si può fare. Granché. Allora. Italian League. Nuovo evento. 50 monete. Un palio. E non solo. Anche altre cose. Che inizia oggi. E finisce il 9. Appunto. Almeno 18 giocatori. Delle seguenti squadre. In schema di gioco. Quindi dedicato. Alle squadre italiane. Dovete avere giocatori. In rosa. Delle squadre italiane. Una sorta di serie A. Dovete fare. Va. E ha una sfida a punti. Si vince. 10.000 GP. 30.000. Quindi 40k GP. E 50. Monete ragazzi. Poi. Poi. Vediamo. Cosa c'è più. Italian League. Questo pure è nuovo. Con l'accordo al buio. Che vi dicevo prima. Per i giocatori. Che vi ho fatto vedere prima. I player of the week. Che sono usciti oggi. Qua. Si ottengono solo punti bonus. Aggiungendo i giocatori. Della serie A. Ma non è obbligatorio. A quanto pare. E che cosa si vince ragazzi. 30k. E 30k. So 60k. GP. E un accordo al buio. Appunto. Dei player of the week. Che vi ho fatto vedere prima. Questo già dovrebbe esserci da un po' di tempo. Vediamo. Eh sì. Infatti. Da tanto tempo. Vabbè. E poi. Qui. Non c'è nient'altro. Andiamo a dare un'occhiata. Non si sa mai ragazzi. Alle partite autentiche. Perché. Era attesa. L'inizio della Coppa e Football Italia. E infatti. Eccola qui. Coppa e Football Italia. Ragazzi. Questo. E' l'evento. Il Konamici. L'evento che ha organizzato. Konami. E ovviamente. Per questo. Primo evento. Che si chiama. Group One. Dovete scegliere. Tra queste quattro squadre partner. Inter. Lazio. Roma. E Milan. Ovviamente. Poi. Gariggerete. Tra virgolette. Per diventare. Uno dei pro player. Diciamo. Uno dei player. Che parteciperanno. Alla Coppa e Football Italia. Insieme al pro. Non draftato. Quindi al pro. Scelto alla società. E insieme. Se non erro. Un giocatore reale. Della squadra. Che si andrà. A rappresentare. Andiamo a vedere anche. Come si entra. Io sto facendo. Tutto. Per la prima volta. Insieme a voi. Infatti. Vi fa scegliere. La squadra. Io. Sceglierò la Roma. E si giocherà. Con le squadre autentiche. Errore di rete. Non so perché. Mi da errore di rete. Adesso mi fa entrare. No. Errore di rete. Non vuole entrare. Ragazzi. Stranissimo. Facciamo entra. Ma. Entra. Errore di rete. Benissimo. Quindi. Per adesso. A quanto pare. Ne scelgo un altro. Scegliamo. Con l'Inter. Vediamo. No. Errore di rete. Ragazzi. Non lo so. Sarà che è veramente un bug. Ragazzi. Nel mentre che la coppa è bloccata. Almeno personalmente è bloccata. Non mi fa entrare. Fatemi sapere nei commenti. Se succede anche a voi. Vediamo almeno come funziona. La coppa è futbolitalia. Con amici. Gruppo one. E in corso. I tuoi risultati verranno pubblicati. Sulla pagina della classifica. Sconfiggi gli avversari. E qualificati. Per il knockout round. I primi 16 classificati. Di ciascun club. Accederanno al knockout round. Una competizione. Per determinare. Chi saranno i rappresentanti. Dei club. Informazioni importanti. Sulla classifica. Solo le partite. Giocate con la prima squadra. Selezionata nell'evento. Saranno conteggiate. I fini della classifica. Se passi un'altra squadra. Durante l'evento. I risultati non saranno conteggiati. E non comparirai. Nella classifica. Inoltre ricorda. Che solo le venti partite. Più recenti. Sono idonei. I fini della classifica. Regole per il calcolo. Della classifica. Bisogna. Battere gli avversari. Ragazzi. E i primi 16. Della classifica. Passano. Quindi. Una cosa praticamente. Impossibile. Con i punti. Differenza reti. Con il fatto. Ogni vittoria. Tre punti. Eccetera. Eccetera. Così sarà. Proviamo. Se adesso mi fa entrare. Anche se non credo. Vediamo. Errore di rete. Quindi ragazzi. Ufficiale. Per adesso. Almeno per quanto mi riguarda. Non mi fa entrare nell'evento. Ci sono novità. Anche nei punti football. Ragazzi. Me ne sono accorto subito. E me l'avete anche segnalato. C'è Pippo Inzaghi. A 5.000 punti football. Nel negozio. Appunto. Dei punti e football. A me personalmente. Non piace. Come carta. Non lo prenderei mai. Però. Se vi interessa Super Pippo. Sappiate che potete averlo gratis. Nel negozio punti football. Beh ragazzi. Io direi che per questo video. Può bastare così. Vi ho mostrato tutte le novità del giorno. Fatemi sapere nei commenti. Che ne pensate. Nell'argomento. Ditemi la vostra opinione. Sia per quanto riguarda. Le novità. A livello di carte. Eventi. Eccetera. Eccetera. Ma anche per quanto riguarda. Il presunto. E momentaneo. Si spera. Blocco. Almeno per quanto mi riguarda. Poi. Ripeto. Fatemi sapere nei commenti. Se succede anche a voi. Della Coppa. E football. Italia. Io vi ringrazio. Per essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio. E un saluto. Alla vostra Simo Play. Bella ragazza. Alla vostra Simo Play.